Ciao a tutti, oggi in mini video ricetta vi vorrei proporre una cosa veramente semplicissima che sono delle sfogliette di pasta sfoglia con mele allora, io le mangio sempre merenda ma sono buona anche per colazione ho preso la pasta sfoglia, in questo caso del Carrefour con base rettangolare quindi vi servirà un panetto o due se ne volete fare un po' di più perché comunque io ho fatto caso che siamo in quattro a casa e avendo fatto una sola era un po' poca poi vi occorreranno delle mele, due per sfoglia più o meno, mi sembra di aver usato anche la volta scorsa quindi due sicuro ma anche tre poi uno stampino di questi per fare i disegnini delle mele da applicare sopra io ho questo stampino qui, è della Thun mi era stato omaggiato mesi fa perché avevo acquistato delle cose ed è molto molto carino quindi lo andremo a provare perché non l'ho ancora utilizzato e niente, ora partiamo e vi faccio vedere come si fa, è veramente velocissimo allora, ho srotolato la pasta sfoglia quindi ve la ritroverete così ora con un coltello andiamo a tagliare dei rettangoli li potete fare a della misura che preferite, non troppo grandi ma neanche troppo piccoli e quindi ora vado a tagliare poi vi faccio vedere ecco qua i rettangoli li ho fatti a occhio, non misurando infatti diciamo che non sono perfetti adesso li potete stendere sulla teglia con sotto la carta forno e poi si va a tagliare le mele ecco, dobbiamo andare a tagliare le mele in questo modo facendo delle fettine sottili così io andrò anche a togliere comunque la buccia e poi dopo si faranno gli stampini ecco, allora prendete l'aggeggino vedete io ne ho già fatta una e vengono dei fiorellini ecco, vengono dei fiorellini molto carini andiamo a premere e poi tiriamo su e premiamo lo stantufo e dove uscire la mela che ovviamente con una mano sola non riesco a farvi vedere ma viene via così e vengono questi fiorellini scusate la luce ma è un po' sera quindi si vede poco quindi continuo a fare i fiorellini e ci vediamo dopo allora prendiamo il rettangolino e innanzitutto si va a fare i buchetti con la forchetta e ora vi mostro un attimo come faccio allora prendete la forchetta andiamo a bucare in questo modo tutto quanto a rettangolo ecco qui praticamente sono venuti tutti i buchini così si cuoce meglio prendiamo i fiorellini e li andiamo a mettere un po' sopra come vogliamo io li posso o stendere o anche leggermente sovrapporre perché comunque si cuociono bene lo stesso però io preferisco appoggiarli e ce ne stanno tre per ogni pezzettino quindi vado a farlo per tutti quanti e poi dopo vi faccio vedere perché sopra va spolverato con un po' di zucchero un cucchiaino di zucchero lo mettiamo sopra ecco allora prendiamo un po' di zucchero e andiamo a spolverare sopra le mele in questo modo e poi le andiamo a mettere sulla teglia così e le mettiamo in forno per 10 minuti a 180 gradi così e vediamo un po' cosa esce ecco qui ci sono le sfogliette pronte 10 minuti di cottura sono con questi bellissimi fiorellini spero appunto che il video ricetta vi sia stato utile mettete un bel like spolliciate e niente vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao